Via ai lavori di potatura, villa comunale chiusa fino al prossimo 15 novembre. Sono partiti questa mattina gli interventi nell'area verde di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, voluti dal sindaco Giovanni Palomba che con apposita ordinanza ha disposto alla chiusura della villa per far fronte a tutte le criticità presenti e consentire agli abituali frequentatori di usufruire dell'area in serenità e sicurezza. Si tratta di interventi di potatura e volte al rinnovo delle alberature comunali presenti si legge nel provvedimento a firma del primo cittadino nonché all'abbattimento di alberature pericolose, frantumazione di ceppaie e piantumazione di nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute. Interventi necessari che non potevano più essere rinviati due mesi fa si verificò il crollo di un albero al centro di un'aiuola. L'area sottoposta ai lavori è stata interdetta con apposite attrezzature che impediscono il passaggio di persone e veicoli così come sono stati interdetti gli ingressi della villa da corso Vittorio Emanuele. La ditta Centro Garden SRL che si occupa di questi interventi ha predisposto alla necessaria segnaletica a servizio del cantiere 48 ore prima dell'inizio dei lavori.